L'Atletico Madrid si aggiudica l'edizione 2018 dell'Universal Viet Cup, la rassegna di calcio giovanile Under-11, tra le più importanti a livello d'Europa. Nella finalissima del Necchi di Forte dei Marmi, la formazione spagnola ha battuto i calci di rigore, l'Ajax detentrice del torneo, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari erano terminati sul punteggio di 1-1. Al terzo posto la Sampdoria. Va dunque in archivio un'edizione dove hanno partecipato 64 società, 1200 calciatori, 224 partite disputate nei quattro giorni di gare, 10.000 gli spettatori presenti. Un evento unico che ha coinvolto tutti i campi di calcio della Versilia, un momento di aggregazione sociale, di sport e di divertimento che ha permesso ai protagonisti di vivere una bella esperienza di vita. Alla cerimonia di presentazione presenti anche l'ex arbitro internazionale Pierluigi Collina e l'attaccante della Spezia Alberto Gilardino. Nella finale hanno brillato Osasua, gol e rispetto. Ha vinto lo sport, hanno vinto i settori giovanili dei nostri club che hanno messo in luce i campioni del domani. Un punto fermo i nostri vivai per dare un futuro al calcio italiano. Grazie a tutti.